La Polizia di Salerno, suddelega della Procura della Repubblica e direzione distrettuale antimafia, ha eseguito 13 misure cautelari, di cui 11 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, a carico di pregiudicati appartenenti ad un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti nella zona dell'agronocerino sarnese. Nel blitz svolto dalla squadra mobile di Salerno hanno acciuffato anche un latitante ricercato per omicidio. I militari inoltre hanno eseguito 4 fermi disposti dal PM con le accuse di tentata e estorsione aggravata ai danni di un imprenditore e detenzione illegale di armi da fuoco. Inoltre nelle perquisizioni domiciliari sono state rinvenute diverse armi illecitamente detenute da uno dei fermati.